I giudici della Suprema Corte hanno confermato la sentenza decisa nel gennaio 2020 dalla Corte di Appello di Palermo. Secondo quanto pubblicano oggi diversi organi di stampa per Fabrizio Miccoli, bandiera del Padermo Calcio, in rosa nero dal 2007 al 2013, non sarebbero previste misure alternative alla detenzione. Miccoli è stato condannato per aver commissionato a Mauro Lauricella, figlio del boss della calza Antonino, detto Scintilluni, che sta già scontando in carcere una pena di sette anni. Il compito di recuperare 12.000 euro dall'imprenditore Andrea Graffagnini, titolare della discoteca Paparazzi, per conto dell'ex fisioterapista del Palermo Giorgio Gasparini, il quale si sarebbe rivolto proprio all'allora capitano rosa nero. Quest'ultimo aveva coinvolto Lauricella, con il quale era in rapporti d'amicizia ai tempi della sua esperienza calcistica a Palermo. Agli atti dell'inchiesta anche alcune intercettazioni tra Miccoli e il figlio del boss della calza. Il giocatore definì Giovanni Falcone quel fango, mentre stava aspettando l'amico in Viano Tarbartolo, nei pressi della casa dove abitava il magistrato. Per queste parole Miccoli si scusò pubblicamente tra le lacrime. Adesso il Romario del Salento, insieme ai propri legali, chiederà appena possibile al Tribunale di Sorveglianza l'applicazione di misure alternative, ma pare inevitabile una permanenza in carcere, la cui durata al momento è impossibile da ipotizzare.